Partita di altra classifica, quella che vede contrapporsi Ligorna e Casale. Partono forti i padroni di casa, al ventiquattresimo si alzano vibranti le proteste per questa spinta in area, ma per l'arbitro è tutto regolare, si può continuare. Al ventiseiesimo a provarci dalla distanza è Silvestri, ma la prodezza è solo sfiorata. Al trentunesimo è il turno di Simone che tenta lo sciutto dalla distanza, ma si spegna lato. Al trentaquattresimo ancora Silvestri lascia partire la bombarda, ma Fontane attento. Ma la svolta arriva al quarantaduesimo, cross per la testa di Kapotos che vola in cielo e sigla il gol del momentaneo vantaggio. È uno a zero. Inizia il secondo tempo ed è Simone a rendersi pericoloso. Il suo tiro sfiora l'incrocio e si spegne sul fondo. Al settantaduesimo episodio che farà molto discutere. Punizione Casale, la palla parte e Capai viene steso in area. L'arbitro non ci pensa due volte e sancisce il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Capai che è freddo e segna il gol del pari. A cinque minuti dalla fine punizione velenosa, ma Luppi si allunga e salva il risultato regalando ai suoi il pari.